SIGLA 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 Pensa a te e alla tua squadra di Pokémon. Che futuro credi vi attendono? SIGLA SIGLA Ok, forza, andiamo a prendere il tuo Pokémon. Eh? Tu sei... Bianca! Molto piacere di conoscerti! Tadà! Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno! SIGLA 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 Dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Per non avere rimpianti. Ci puoi contare! SIGLA 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 Saranno i tuoi o i miei? I miei complimenti, siete riusciti ad arrivare fin qui. Purtroppo però, vedete in quanti siamo. E aspettate ad arrendervi. Ragazzi, vi avviso. Non riuscirò a trattenermi per molto. Uff, a me sembrano un po' troppi. Questi spuntano da ogni parte, non finiscono mai. Li sistemerò in fretta, vedrete. Mi servirà il tuo aiuto, sei pronto? Certo, Tony. Saviper, usa Morso! H9, usa anche tu Morso! Vai, Samuroth! Usa geloraggio! Ah! Fermati! Lucario, usa Forza Sfera! Costi quel che costi, raggiungeremo il nostro obiettivo! Ma seconda,また tanto! Tutto! T... Era la popsta! Tante altre cose! Tante altre cose! Tante dueppe e skeletali. Tante successo! Tante tutte dueppe di reven burada White! Grazie a tutti.